Simone Inzaghi può ritrovare il sorriso in vista della gara di domenica contro il Napoli. Edino Dzeko, come noto, ha saltato le gare di qualificazione con la sua Bosnia per un fastidio al flessore. Ma in campionato ci sarà, e probabilmente sarà, tra i protagonisti della sfida contro gli azzurri di Spalletti. Insieme a Bastoni, il centroavanti bosniaco sta lavorando in maniera differenziata, ma salvo imprevisti, per domenica sarà in campo. L'esperienza in Germania con il Lipsia non è stata esaltante per Justin Kluivert, ma anche in Francia al Nizza non va meglio. L'attaccante, dopo un buon inizio di stagione, non riesce più a trovare continuità anche per via dei tanti problemi fisici che lo stanno frenando. Di lui ha parlato il direttore sportivo del club francese, che all'equip ha affermato Kluivert e Stengs? Mi aspetto di più da loro. Anche se gli infortuni fanno parte della vita di un grande atleta, è ovvio che mi aspetto di più da Justin, che mi aspetto di più da Calvin, che mi aspetto di più da Kasper, che mi aspetto di più da Alexis. Devono dare tutti di più al club. Loro lo sanno. Abbiamo giocato quasi 13 partite senza loro. Ad un certo punto devono unirsi al gruppo. La Lazio programma il futuro. Infatti Claudio Lotito e Maurizio Sarri si sono trovati nel tardo pomeriggio di lunedì per parlare di quello che accadrà. Argomento principale dell'incontro, il rinnovo del tecnico. Il presidente, Bianco Celeste, è rimasto colpito dai primi mesi del nuovo corso e lo stesso allenatore, a più riprese, ha manifestato il suo benessere nel lavorare a Formello. Ecco che l'accordo firmato in estate, valido fino al 2023, è pronto ad essere prolungato per altri due anni. Il ministro Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani hanno ricevuto, nella mattinata di mercoledì, al Mise, i vertici di Dazon. Al centro della discussione la tutela del consumatore e la lotta alla pirateria. Il ministero, si legge in una nota, ha sottolineato la massima attenzione e vigilanza sulle criticità emerse in questi primi mesi. In particolare è stata confermata la necessità di non cambiare le regole nella corsa, rafforzare il customer center con l'obiettivo che sia più attento alle necessità della clientela con minore dimestichezza, con strumenti tecnologici e la prosecuzione degli investimenti in rete e tecnologia per evitare disservizi agli utenti. Grazie! Grazie!